Ti diamo il benvenuto nel nostro spazio digitale e, prima di avviare il filmato, vorremmo ricordarti di registrarti, apporre un mi piace e attivare le notifiche per essere sempre al corrente delle prossime novità. Il 26 marzo 2018, gli appassionati telespettatori italiani si trovavano a dover salutare, con profonda amarezza, una delle figure più adorate della televisione, Fabrizio Frizzi. La ragione del suo addio prematuro fu un tumore cerebrale aggressivo. Pur confrontandosi con la serietà della sua situazione, Frizzi dimostrò una forza stupefacente, conservando la sua vivacità, il suo caratteristico fascino e il suo sorriso contagioso fino al termine della sua esistenza. Dotato di un talento eccezionale e di una conversazione coinvolgente, Frizzi conquistò l'affetto del pubblico in un istante, diventando una colonna portante della televisione italiana. Ancora oggi, molti lo ricordano con affetto e rimpianto, incluso un gran numero di celebri colleghi che lo hanno ammirato e rispettato. In un episodio di Matrix, il noto presentatore Alfonso Signorini svelò, lasciando la platea senza fiato, che Frizzi era consapevole del suo stato e sapeva che la sua condizione era senza via d'uscita, con tumori troppo estesi e inoperabili. Nonostante tutto, Frizzi decise di continuare a distribuire il suo affetto e amore ai suoi cari e al pubblico che tanto lo stimava. La sua vedova, l'affascinante giornalista e ex Miss Carlotta Mantovan, ha trovato il coraggio e la forza per proseguire, sebbene il dolore per la perdita del marito sia ancora molto presente. La loro figlia Stella, che aveva solo pochi anni quando suo padre è scomparso, ha da poco compiuto dieci anni. Stella, molto fiera di sua madre, ha una grande passione per la musica, come suo padre, e un amore speciale per il pianoforte, la natura e gli animali, in particolare i cavalli. Frizzi ha lasciato un segno indimenticabile nella storia della televisione italiana. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla nota giornalista e presentatrice Rita dalla Chiesa, che fu per un tempo la moglie di Frizzi, i rapporti tra l'indimenticabile conduttore e la RAI non sarebbero sempre stati pacifici. In un'intervista rilasciata durante il programma Mezz'ora in più, Rita ha descritto Fabrizio come una persona onesta, gentile ed educata, non un santo, ma un uomo eccezionale. Rita ha anche espresso dubbi riguardo al cambiamento d'atteggiamento di certe figure del mondo televisivo dopo la morte di Frizzi, suggerendo che fosse stato ingiustamente allontanato dalla RAI, prima di essere richiamato su RAI 3. Nel ricordo di Fabrizio Frizzi rimane viva la sua cortesia e generosità verso tutti, caratteristiche che hanno contribuito a renderlo uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano, che lo ricorda e lo piange ancora oggi. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci accompagnato, ci rivediamo presto con un nuovo video! Grazie per aver guardato il video!